Sono Yuyu e sono nata in Mongolia interna, una provincia autonoma della cena. La poetica che accompagna la mia arte è legata al bisogno del calore delle mani nella vita di tutti i giorni. Bisogna vedere, toccare, poi immaginare, è un gioco. La tecnica che utilizzo nei miei lavori è proprio quella del mosaico felato, una tecnica antica. Per realizzare mosaici felati solitamente viene realizzato all'interno di un cantenitore, detto casina, che può essere di vari materiali, marmo, legno, metallo, ecc. In questo caso ho scelto di realizzare delle cornice di legno, perché secondo me la cornice non deve rubare la tensione riservata al micro mosaico. Per tagliare i filamenti di mosaico utilizzo una rimetta di diamante e per posizionare le tesele mi aiuto con una piccola pinza. La mia performance prende il nome di micro maggior utilizzando proprio il termine maggior per fare riferimento alla pronuncia romagnola. È stato chiesto a quattro anziani romagnoli di giocare con i pezzi da me realizzati, parlando in dialetto romagnolo. Il motivo per cui ho realizzato questo progetto è che essendo qui già da sette anni volevo lasciare qualcosa sia per me ma anche per questa città. E soprattutto ho realizzato questo progetto perché anche io amo giocare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.